Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con Valox Oggi sono qui ragazzi e portarvi un video molto molto shallow Un video diciamo informativo riguardo una cosa che sono sicuro potrà interessarvi Quindi sono in live ma non fateci casa quello che farò in partita Perché è appunto un gameplay di sottofondo Semplicemente per darvi qualcosa da vedere Ecco giocherò male di merda anche perché mi devo concentrare su quello che devo dirvi Però comunque diciamo è uno sfondo appunto Quindi di cosa dobbiamo parlare oggi? Di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare come avrete capito dal titolo ragazzi del torneo di nascondino Che già avevo annunciato Torneo di nascondino con un altro appunto che è un torneo a cui parteciperete voi Eeeh di nascondino molto molto semplicemente Cioè in realtà io ho ovviamente di fare un campionato di minigames Però mancando troppo poco tempo a Infinite Warfare E sendo un po' un casino da organizzare bene tutto Ho deciso di rimandare proprio il campionato a più avanti ecco Mentre di fare attualmente una specie di torneino di minigames Che durerà sino all'uscita più o meno di Infinite Warfare ragazzi Un torneo appunto di nascondino Che è la modalità minigioco che vi piace di più Che ormai tratto quasi settimanalmente In maniera o anche bisettimanale Dipende dalla situazione Vabbè sul canale E che vi piace anche perché molto spesso lo gioco con voi stessi E voi stessi appunto vi divertite ogni volta che ci faccio dei video a riguardo Quindi appunto sono qui per spiegarvi come Porco giù da questa mosca di merda Sono qui per spiegarvi appunto il funzionamento di questo torneo Ragazzi è una mosca non so come cazzo faccio ad essere in camera mia una mosca Però va bene Dicevo Sono qui appunto per spiegarvi il funzionamento di questo torneo E come partecipare E come sarà strutturato Parto subito con dirvi che sarà un torneo molto semplice Durerà soltanto 4 giornate Sarà appunto una cosa molto 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 basilare E la prima cosa riguarda le mappe Ok le mappe parto subito col parlare delle mappe Vi ho fatto votare le vostre mappe preferite Nel video precedente Mi sono dimenticato di escludere Nuketown Che non so per quale motivo ho messo Ho copiato tutte le mappe del gioco E erroneamente ho messo anche Nuketown E non so perché l'avete votata È tra le mappe più votate Ora io mi chiedo Ok Nuketown è bella Ma non potete votarla per nascondino Perché non è una mappa giocabile su nascondino Quindi anche se l'avete votata Quella sarà chiaramente ragazzi esclusa Dicevo quindi Le mappe che avete votato Saranno tutte selezionate per il torneo Molto molto semplicemente Saranno tutte scelte In base a esso Devo ancora valutare bene Il numero di mappe che faremo In ogni singolo episodio del torneo Però comunque Quelle saranno le mappe Le prime mappe selezionate Saranno appunto quelle che verranno utilizzate In ordine diciamo In ordine di votazione Le più popolari saranno utilizzate Quindi ringrazio tutti quelli che hanno votato Come funzionerà il torneo ragazzi Molto semplice Ci sarà una qualificazione Basata su Delle preti di nascondino Che andrò a fare insieme a voi Che permetterà appunto Ad alcuni L'accesso Al torneo Ovvero e proprio Torneo che sarà suddiviso In quattro giornate Ok quattro giornate Dove Praticamente Beccheranno dei punti Innanzitutto parteciperanno Sempre gli stessi Chiaramente Quattro giornate Parteciperanno sempre Gli stessi qualificati Ecco E che Tramite appunto Queste giornate I partecipanti Potranno accumulare dei punti In base al proprio posizionamento A fine mappa Nel senso Se per esempio Io vengo eliminato per ultimo Becco tutti i punti Mentre se vengo eliminato per primo Becco pochissimi punti Chiaramente Quindi Alla fine di tutte le mappe Diciamo che Tutti i partecipanti Beccano dei punti E niente Alla fine si va a decretare Il vincitore Alla fine di tutte Le giornate Le giornate saranno quattro E Saranno appunto Una settimana Molto probabilmente Comunque Come appunto Partecipare a questo torneo Allora io pensavo di fare Una cosa molto molto semplice Ragazzi Poi come faccio praticamente Sempre Quando devo registrare Le modalità appunto Scusate I video di nascondire appunto Insieme a voi In pratica Utilizzerò il server TeamSpeak Che per chi non lo sapesse È appunto un server Molto semplice Che si utilizza Per parlare Quando si gioca online Quindi Parto subito col dire Che se volete partecipare Dovete avere chiaramente Un pc Come requisito Per poter giocare E parlare col pc In contemporanea E ha chiaramente Anche il microfono Ma non è obbligatorio Cioè se non volete parlare Non fa nulla E allo stesso tempo Dovete avere anche tutti i dlc Perché chiaramente Nella votazione C'erano anche mappe dei dlc Quindi dovete averli tutti E giocare su ps4 Ragazzi Mi dispiace Dover mettere queste restrizioni Però Dovendo fare appunto Un torneo completo Ecco È necessario avere tutto quanto Cioè se no Dovrei stare lì a cercare Per mettere mille limitazioni Solo queste mappe E così via Quindi purtroppo Ragazzi Questi sono i requisiti Da Appunto Da seguire Per poter partecipare Comunque dicevo Si utilizzerà il server TeamSpeak Il giorno delle qualificazioni Che sinceramente Ancora non so dirvi Ve lo dirò su telegram Verrete avvisati su telegram Il giorno prima E poi Verrete avvisati proprio Poco prima dell'inizio In pratica appunto Andremo sul server TeamSpeak Il mio server TeamSpeak Di cui vi lascio L'indirizzo nel caso In descrizione Ma ve lo darò Il giorno su telegram Direttamente Andremo appunto Su questo server E Creerò esattamente Quattro stanze Ok Le stanze cosa sarebbero Avete presente i parti Del PSN Dell'Xbox E con la stessa cosa Però sul server Dei parti Creerò appunto Dei parti Delle stanze Come volete chiamarle Limitate per 18 persone Ok Quindi soltanto 18 persone Quattro stanze Dove appunto Quando darò il via Perché inizialmente Le stanze saranno chiuse E quando darò il via E le aprirò appunto A voi Voi potrete entrare E i primi che entreranno I primi 18 per stanze Saranno appunto Qualificati alla qualificazione Cioè Praticamente Siccome non posso far giocare Tutti quelli che vogliono Raga Chi riuscirà a entrare Appunto in queste stanze Entro il Cioè per primo Praticamente Potrà partecipare Alla qualifica Le qualifiche saranno appunto Come già detto Delle partite di nascondimento Normalissime E verranno scartati Semplicemente Quelli che verranno trovati Per prima In pratica Quelli che sopravviveranno Per ultimi Parteciperanno Al torneo Mi spiego meglio Essendo 17 i posti Disponibili Per il torneo Quindi 17 i futuri Partecipanti Al torneo Vero e proprio Che poi giocheranno Le varie giornate Dovranno appunto Essere 17 i posti Quindi Essendo 4 le stanze Quindi i gruppi di persone Che parteciperanno Ed essendo ogni gruppo Compostato da 17 Farò così Farò 3 partite In cui verranno pescati I primi Gli ultimi 4 scusate Ad essere trovati O comunque 4 che sopravveranno Insomma I 4 che si Messi meglio Insomma Mentre In una delle 4 partite Delle 4 stanze Appunto che giocheranno Nascondino Versaranno i primi 5 Ad essere Gli ultimi 5 Insomma Quando dico primi Intendo gli ultimi Che vengono trovati Così via Ad essere appunto scelte Quindi andando a sommare Appunto 4 più 4 più 4 più 5 Si arriva tranquillamente A 17 In questo modo Avremo 17 partecipanti Che si saranno qualificati E potranno partecipare Alle varie giornate Spero sia stato tutto chiaro La spiegazione Cioè Ripeto molto brevemente Voi entrate sul server Ok Quando vi do il via io Troverete delle stanze Chiamate tipo Qualifiche minigames 1 Qualifiche minigames 2 3 e 4 Ok Quando darò il via Non Cioè Sarà possibile Entrare appunto in queste stanze Perché prima di allora Saranno bloccate I primi che entreranno I primi 17 che entreranno Dico 17 perché chiaramente Ci sarà uno che Occuperà un posto Che sarò io Metterò dalle persone al mio posto Occuparlo perché chiaramente Un posto sarà sempre occupato Da quello che dovrà cercare In questo caso ripeto io Quindi i primi 17 che entreranno Faranno una parità di nascondino Con il sottoscritto Che chiaramente verrà registrata E verrà caricata In un video chiamato Qualifiche di nascondino E niente Appunto Quelli che verranno trovati Per ultimo Durante la partita Di ogni singola partita Saranno qualificati Quindi per 3 partite Di queste saranno Gli ultimi 4 A passare appunto A essere qualificati Al torneo Mentre per una Per una questione proprio Di numero di partecipanti Saranno costretti A selezionare 5 Non 4 Quindi in totale Avremo 17 partecipanti Il torneo poi Ver e proprio Vabbè lì Tranquillamente Mi organizzerò Con quelli che verranno Scelti appunto Sarà molto molto semplice Cioè saranno Più o meno 4 giornate Penso 5 Adesso vedremo raga Non sarà un problema Comunque Che verranno pubblicate La domenica E lì Praticamente ripeto Ci sarà sempre Un criterio di valutazione Per ogni singolo giocatore In base all'ordine Con cui verranno appunto Trovati Durante la partita Cioè se uno viene eliminato Primo Si becca a tot punti Se viene eliminato Per ultimo E vince addirittura Si becca a tot punti Saranno bonus E cose di questo tipo Alla fine Il premio finale Raga Questa è la cosa più importante Quello che vincerà Il torneo Quindi il primo Classificato Quello che alla fine Di tutte le giornate Avrà più punti Avrà la possibilità Di partecipare Alle nostre future Peretele nascondito Quindi con Rampage Relix Mancu Tutti insieme Insomma Sarà un'aggiunta Un'aggiunta del gruppo Chiaramente non sempre Ma non peraltro Ma perché noi stessi Non siamo sempre gli stessi Capiterà ogni tanto Che verrà appunto A giocare con noi Lo inviteremo tranquillamente A giocare E sarà parte diciamo Del gruppo di nascondito Ecco Niente Io ragazzi Spero possa piacervi Quest'idea È una cosa un po' particolare A parer mio Che potreste gradire Ecco spero Anche perché ve l'avevo già annunciata Diciamo il feedback Era stato molto positivo Quando l'avevo annunciata E niente Spero partecipiate in tanti Raga Vi sto dando un botto di preavviso Verrete avvisati su Telegram Riguardo poi le news Quindi seguitemi su Telegram Lì vi dirò esattamente il giorno In cui capiterà Avverrà tutto Manderò dei vocali Per spiegare in maniera più dettagliata Insomma sarà tutto molto più chiaro E ci organizzeremo Riguardo alla data Ecco quindi La data ufficiale Del primo giorno di qualifiche Del primo e unico giorno di qualifiche Verrà ufficializzata su Telegram Quindi se volete partecipare ragazzi Seguitemi lì E lì avrete tutto quanto Semplicemente la data Anche perché alla fine Vi ho spiegato tutto adesso Quindi vabbè Ad ogni modo Seguitemi su Telegram Io ragazzi Spero apprezzate questa iniziativa Tra virgolette In modo per giocare insieme Per creare qualcosa E con un rapporto Eccetera Vi invito a scrivervi nei commenti Cosa ne pensate E noi ci becchiamo Semplicemente ragazzi Stasera All'incio Trovo un nuovo video Bella Ciao 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 Ciao